Quasi tre ore in interrotte di concerto per Renzo Arbore e la sua orchestra italiana nel concerto promosso dalla regione Campania presso Villa Matarazzo a Castellabate. Norme covid rispettate con attenzione, distanziamento fisico dei posti a sedere, mascherine obbligatorie, accesso e uscita regolamentata dal servizio degli steward, commisurazione della temperatura corporea a tutti gli spettatori. Un modo particolare di vivere un concerto ma, come affermato dallo stesso Arbore e dal palco, un segnale importante per tenere viva e far ripartire l'industria culturale del nostro paese. Lo showman è incantato, divertito, intrattenuto con la maestria, la bravura, l'irriverenza e la creatività che hanno caratterizzato da più di mezzo secolo la sua carriera artistica. Un viaggio nella canzone napoletana ma non solo, con omaggi ad alcuni grandi della tradizione partenopea. Roberto Murolo, Renato Carosone, Totò e il caro amico Luciano De Crescenzo, scomparso lo scorso anno, che Arbore ha voluto ricordare con alcuni divertenti aneddoti. Luciano aveva comprato una barca a Capri e dove andava questa barca si chiamava Fatta Apposta perché serviva per rimorchiare alcune, era un grande tomber de fam. Allora questa barca insomma a un certo punto decise di venderla e la vendette al comandante Caffiero, che è mio mio lontano parente, comandante Caffiero. Il comandante Caffiero non finì di pagare la barca, rimanevano 300 mila lire e allora Luciano non sapendo come fare lasciò alla segreteria telefonica questo messaggio. Non ci sono per nessuno tranne per il comandante Caffiero che mi dà 300 mila lire, quindi tutti sapevano questo fatto di comandato e a un certo punto il comandante si fa vivo e dice Luciano ma stai sputtanando in tutta Italia i 300 mila lire, insomma lo sanno tutti che dà già da questi 300 mila lire. Luciano disse non avevo altro sistema comandante, ma quando me li dai? Dice che faccio? L'indovino io, questo è che il comandante Caffiero. Il pubblico entusiasta ha accompagnato l'esecuzione dei brani con cori e battiti di mani in un clima di grande attenzione e di gioiosa festa per un artista poliedrico. L'orchestra italiana si conferma ricca di artisti di straordinario livello che con i loro virtuosismi hanno accompagnato e valorizzato l'istrionica direzione all'impronta di un renzo arbore in grandissima forma e instancabile mattatore di una serata estiva all'insegna della grande tradizione musicale napoletana e della straordinaria ironia di un gigante dello spettacolo, ambasciatore della cultura italiana in ogni angolo del mondo. Grazie a tutti i nostri spettacolo, a tutti i nostri spettacolo, a tutti i nostri spettacolo,